salve a tutti e bentornati sul nostro canale sartoria musicale dopo aver visto le funzioni principali sia per quanto riguarda la parte software che la parte hardware del nostro machine micro mark 3 ed aver configurato il nostro progetto passiamo all'azione e quindi iniziamo a suonare la prima cosa che andremo ad impostare sarà la lunghezza del pattern premiamo il tasto pattern ed impostiamo il numero di battute in questo caso due battute adesso attiviamo la funzione metronomo premendo shift più tap ed iniziamo a suonare adesso basterà premere il tasto rec per quantizzare invece premiamo shift più quantize visto che questo suono non ci piace particolarmente vediamo adesso le funzioni di modifica che si attivano premendo shift più ando o le altre tre funzioni abbiamo il nostro beat passiamo adesso al basso se vogliamo progettare la nostra parte ricordiamoci di disattivare il tasto rec ora Grazie a tutti. Come avrete notato anche questo pattern era costituito da due battute e quindi andiamo ad impostarle. Passiamo adesso al nostro piano. Passiamo. Passiamo. Stavolta abbiamo dunque un pattern di quattro battute. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso andiamo a vedere invece come si attivano i plug-in. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, sperando di esservi stato utile e soprattutto avervi aiutato a conoscere meglio le funzioni base di Machine, vi invito a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche sui prossimi tutorial e ovviamente iscrivervi al nostro canale. Grazie mille per la vostra attenzione, ci vediamo alla prossima.